musica musica ciao ragazzi ragazzi oggi è una notazione dei moda urlo e non mi senti urlo e non mi senti io urlo ma ma tu non tu non io urlo ma tu non mi senti via ma base ma 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 però tornerò meno fragele rasterò alla alla destra ma per un altro giorno un po' in questa resta lì pure in silenzio giudica ora che non avrai più paura mi dico sapere ancora dormi tranquilla e stai lontano dai miei sbagli intanto che è un sogno continua a fredermi c'è un loro soli tu non ti senti dimmi la morte è forte caldo tra la gente sento tanto piorta o sogno lacrime allungo e le mie mani ma tu sei distante spalirò come pioggia nella sabbia b che è l'aria che è l'aria che è l'aria che è l'aria dormi tranquilla e sei lontano dai miei sbagli intanto che rispondi e io continuo a chiedermi perchè uno e poi tu non mi senti e dimmi c'è a volte poi mi cerchi c'è alla gente se è soltanto pioggia o sono là che allungo le mie mani ma tu sei lontano ma tu sei lontano e dormi tranquilla e sei lontano dai miei sbagli intanto che rispondi e io continuo a chiedermi perchè uno e poi tu io mi senti raga la casa è finita ci vediamo domani comando un'altra minazione ma non sarà più di moda almeno che non mi frega vado a dire paura perché c'è la c'è la c'è la lista oh no 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 sarà quello raro ok ci vediamo domani con un altro video ciao raga ciao ciao